Valerio Fioretti, presidente CNA Macerata, un incontro, un dibattito con i nove candidati sindaco al comune di Macerata. Avete sottoposto tre questioni importanti per le piccole e medie imprese iscritte alla vostra associazione di categoria. Tre macro aree, come favorire le imprese, come favorire gli investimenti sul territorio e come soprattutto contrastare il fenomeno dell'abusivismo. Voi cosa chiedete? Noi chiediamo sicuramente un impegno da parte dei nostri politici perché le cose che si possono fare a livello territoriale e comunale sono tantissime. La riduzione delle tasse comunali è sicuramente una di queste e quindi agevolare l'apertura di nuove imprese, soprattutto per i giovani sotto i 30 anni e per le donne, una forte riduzione quindi delle tasse comunali. Poi ovviamente per quello che riguarda la lotta all'abusivismo è un fenomeno molto importante, molto sentito dai piccoli commercianti e dagli artigiani. La CNA offre il suo supporto alle istituzioni, al comune con i propri mezzi per controllare, verificare e eventualmente segnalare abusi o attività non regolari. Quindi vorremmo che le associazioni di categoria come la CNA venissero coinvolte dal sindaco, dalla prossima giunta anche per sviluppare maggiormente l'economia del territorio. Grazie.